eeeh ciao ragazzi qui è sabbit e benvenuto in questo mini gameplay di the last of us ragazzi non mi domandate perchè siamo ritornati sul grandissimo the last of us remastered solo così per sfizio volevo dire che comunque questa parte era citato eh si questa parte l'ho dovuto fare per forza action non potevo farlo stilt perchè è stato un problema ma infatti vedete che ho dovuto usare un bel po' di persona in realtà vi farò questo livello solo per il bloater raga solo per questo vai arrivano altri barricchiamo le porte non li tratterrà a lungo non mi piace questo suono oh no che cazzo è quello è un dannato bloater e li riparati allora siete pronti per lo splatter del bloater vai addosso vai addosso dai va per forza dai ritorniamo all'attacco vai raga tutti quanti noi lo conosciamo il bloater in realtà questo video è solo dedicato al bloater guardate mi raccomando riparati va bene dai ok allora pensiamoci noi vai vamanos che possiamo dire vanno vai 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 magari va possiamo cazzeggiara dicanna no E lo sto giocando a modalità difficile Attenzione Aspetta un attimo Oddio è più resistente qua cazzo Cazzo qua è più resistente E chi lo sapeva Cioè raga mi dovete scusar In realtà dovrei usare il fucilo Perfetto L'abbiamo fatta Sì ora ce ne andiamo tranquillo Era solo per farci divertire un po' E per fare un po' lo splatter del bloater Perché tutti quanti noi conosciamo il nostro Mybook 90 quando vuole abbracciare qualcuno Va bene ragazzi Io il video lo posso pure chiudere qua Comunque sto messo bene In realtà starei messo male Guardatemi Dai ne metto una Perché mi crea un'altra bomba molotov per sicurezza E potrei andare bene così Potrei andare bene così con la velocità di curo Infatti sì Dai non facciamoci questo Per la velocità di cura Che è importante E va bene Ok ragazzi Io questo mini gameplay Lo posso pure chiudere qua Con la bellezza Del sedere di Ellie Vi invito a lasciarmi un bel mi piace Un commento Iscrivetevi al canale Qua da Sabbit è tutto E noi ci vediamo al prossimo video Ciao Ciao